Allora Allora adesso facciamo qualche esercizio Stamattina gli esercizi non ne facciamo tanti facciamo quelli che ci servono per andare avanti domani che è pomeriggio ci spizzareremo molto di più però qualcuno lo dobbiamo fare che poi ragionare sempre in astratto con le lettere funziona fino a un certo punto Allora mettiamo per esempio Z uguale 3 più 2i Udoppio uguale 1 meno i Andiamo a fare Vediamo un po' se avete capito Z più Udoppio quanto fa? Quanto fa? 4 più i 3 più 1 fa 4 2i meno i fa più i E W più z Sempre 4 più i Tu fai invece di fare z più v2 fai W più z fai 1 più 3 che fa sempre 4 meno i più 2i Campo significa che la somma e il prodotto sono commutativi appartiene a quella lista di proprietà e sono tra le proprietà che hanno facile da verificare Andiamo a fare il prodotto Z per W Quanto fa? Fa 3 più 2 più 2i meno 3i Cioè 5 meno i Perché 3 più 2 3 per 1 è 3 2i per meno i fa più 2 Poi qua viene 2i per 1 fa 2i meno i per 3 fa meno 3i Andando a semplificare Andando a semplificare 3 più 2 fa 5 2i meno 3i fa meno i E' chiaro? E' chiaro? Andiamo a fare Z per W coniugato Allora dobbiamo fare Allora dobbiamo fare stavolta 3 più 2i per 1 più i stavolta mi viene 3i scusate 3 meno 2 più 3i più 2i quindi stavolta viene 1 più 5 2i Andiamo a fare 0 coniugato per W2 Allora qua mi viene 3 meno 2i per 1 meno i stavolta mi viene 3 meno 2 perché meno per meno fa più ma i per i fa meno 1 qua viene meno scusate W doppio era meno 2i meno 3i 3 meno 2 meno 2i meno 3i meno 3i 3 meno 2 quindi andando a fare la suma viene 1 meno 5i o notiamo che questo prodotto viene esattamente il corrigato qua ci viene un dubbio però per chiarire meglio la situazione andiamo a fare il prodotto anche il corrigato di z per il corrigato 1 allora questo è 3 meno 2i per 1 più i quindi quanto fa 3 più 2 più 3i meno 2i quindi viene 5 più i e osserviamo che anche questo è coniugato di questo e se vado invece a fare la somma dei coniugati se io faccio qui faccio z coniugato più doppio coniugato questo è 3 meno 2i più 1 più i quindi viene 4 meno i che è coniugato di questo allora sarà un caso oppure no? la risposta è no allora andiamo a vedere prendiamo mettiamoci le lettere vedete la superiorità delle lettere w stavolta la voglio chiamare c più i b chi è z coniugato? a meno i b chi è w coniugato? c meno i b ok adesso andiamo a fare z più w quanto fa? fa a più c i b ci metto le parentesi anche se non sono necessarie più i per b più i ok? chi è? z coniugato più doppio coniugato eh qua il segno non è cambiato quindi è sempre a più c invece qua i segni sono cambiati quindi qua è meno i per b quindi scopro che il coniugato della somma non è altro che la somma dei coniugati cioè il coniugato della somma è uguale alla somma quindi si dice che l'operazione di coniugio rispetto alla somma cioè il coniugato della somma è la somma dei coniugati andiamo a fare il prodotto il prodotto z per w doppio è ac meno bd se vi ricordate più i volte ad più bc quindi quando vado a fare il prodotto dei coniugati z coniugato per w doppio coniugato cosa viene? viene ac quando vado a moltiplicare questi viene meno per meno che fa più i per i che fa meno quindi un'altra volta meno quindi meno i volte ad più bc viene meno i ad meno i bc e viene esattamente il coniugato del prodotto quindi anche il prodotto rispetto al coniugio l'operazione che ci dà il coniugato si chiama coniugio quindi si usa dire, si suol dire che il coniugato della somma è la somma dei coniugati quindi il coniugato del prodotto è il prodotto dei coniugati va bene? fino a qui? ok perché il coniugato di questo è questo? perché se io vado a fare il coniugato di z per w doppio z per w doppio coniugato cioè il coniugato di questo qua come si fa? basta applicare ripetutamente le proprietà che abbiamo trovato perché? il coniugato del prodotto è il prodotto dei coniugati quindi è z coniugato per w doppio coniugato due volte ma quando un numero viene coniugato due volte che significa? vediamo se c'è ancora il disegno coniugare significa cambiare segno dalla parte immaginale con un'altra volta torna il numero di primo quindi questo non è altro che z coniugato per doppio e infatti questo qui e questi due numeri qua anche nell'esempio abbiamo visto che erano coniugati ok? queste proprietà sono importanti adesso andiamo a vederne un'altra lasciamo i numeri indicati lì allora andiamo a vedere chi è il modulo di z? sempre in questi esempi qua chi è il modulo di z? quanto fa? fa la radice di 13 e che 13? è la radice di 3 al quadrato che fa 9 più 2 al quadrato che fa 4 fate attenzione perchè molti studenti fanno l'errore che qua ci mettono 9 meno 4 fanno il quadrato la parte rata e il quadrato della parte immaginale no si fa il quadrato del coefficiente la parte immaginale cioè sotto quando andate a calcolare il modulo sotto radice ci vanno la somma di due numeri positivi quindi non ci può stare il numero negativo ok e quanto fa il modulo di w? ehi la radice di 2 1 al quadrato più 1 al quadrato fa 2 allora andiamo adesso a vedere quanto fa il modulo di questi numeri qua quanto fa il modulo di 0 per v? allora? radice di? 26 5 al quadrato più meno 1 al quadrato che fa 1 25 più 1 fa 26 e gli altri? qui hanno tutti quanti il modulo radice di 26 qua viene radice di 5 al quadrato più meno 1 al quadrato qua viene radice di 1 al quadrato più 5 al quadrato qua è radice di 5 al quadrato più 1 ma sempre vi disegno questi quattro numeri se li andate a disegnare nel piano andiamo e facciamo un disegnino 1 è 5 più i l'altro è 5 meno i e poi c'è 1 più 5i e 1 meno 5i ma se andate a vedere questi numeri stanno tutti alla stessa distanza dalla voce questo è 1 meno 5i questo è 1 meno 5i vabbè ho scelto unità di misura abbastanza piccola eh unità di misura è più o meno questa 4 e 1 qua c'è naturalmente il disegno non è perfetto ma insomma avete capito l'idea oh perché questi numeri erano tutti quanti lo stesso modulo? beh questo è figlio di due proprietà una proprietà è che quando passo da z a z coniugato che succede al modulo? modulo di z coniugato che è è la radice di a quadro più meno b al quadrato che è uguale alla radice di a quadro più b quadro che è uguale al modulo di z cioè quando faccio il coniugio il modulo mica cambia fare il coniugio significa già praticamente fare questa riflessione quando vado a fare questa riflessione questo punto va a finire qua ma la distanza dall'origine non cambia è la stessa lo vediamo meglio lo mando sopra e questo punto e questo punto distano dall'origine la stessa cosa questo perché quel triangolo esosce ok? questi qua sono due triangoli in rettangoli questi due lati hanno la stessa lunghezza quell'altro casete in comune e qui anche la diagonale ha la stessa lunghezza anche le due ipotenuse hanno la stessa lunghezza quindi quando passo da un numero al suo coniugato il modulo non cambia però osserviamo un po' che succede? chi è il modulo del prodotto? beh, adesso lo stiamo verificando su un esempio poi lo dobbiamo dimostrare in genere generale ma non è proprio il prodotto dei moduli come si fa il prodotto dei moduli? in questo caso radical 2 per radical 13 radice e si fa il prodotto sotto radice 2 per 13 fa 26 quindi effettivamente il modulo del prodotto coincide con il prodotto dei moduli allora è chiaro che qua non cambia niente perché se fosse vera questa proprietà anche qua il modulo del prodotto è uguale al prodotto dei moduli ma il modulo di z il modulo di w coniugato va al modulo di w quindi viene un'altra volta modulo di z per modulo di w che fa radice di 26 qua modulo di z coniugato che fa modulo z per modulo di w fa un'altra volta radice di 26 qua modulo di z coniugato va sempre radice di 13 modulo di w coniugato va sempre radice di 2 e viene sempre radice di 26 quindi in realtà è tutto molto meno misterioso di quello che sia tuttavia questa proprietà qui noi l'abbiamo verificata su un esempio allora come facciamo a vedere se è vera in generale? come al solito invece dei numeri ci dobbiamo mettere le lettere ok? allora come faccio a verificare? fatemi cancellare qua le prime due righe allora io scrivo z z è uguale ad a più b b poi scrivo w poi chiamo c più i d poi qua scrivo modulo di z a quadro perché voglio scrivere il quadrato così non ci metto la radice più semplice questo è uguale per definizione a da quadro più b quadro poi voglio scrivere modulo di w quadro è uguale ad a quadro a c quadro più d quadro e poi voglio scrivere z da w chi è z da w? è a per c meno b d più i volte ad più b c e chi è modulo di z da w? al quadrato beh basta fare il quadrato di questo a c meno b d al quadrato più a d più b c a quadrato questo è uguale al quadrato del primo termine sviluppo la prima parenza quadro c quadro più b quadro d quadro a meno due volte a b c d poi abbiamo più a quadro d quadro più b quadro c quadro più due volte a b c d metto sempre i prodotti metto sempre i prodotti noi diamo a presto allora come vedete questi due pezzi i doppi prodotti se ne vanno e che cosa mi rimane? beh quello che mi rimane lo potete scrivere come a quadro più b quadro a quadro per c quadro più b quadro ovviamente dovete mettere in evidenza due volte ma basta sviluppare a quadro per c quadro c'è a quadro per d quadro c'è o b quadro per c quadro c'è e b quadro per d quadro c'è quindi effettivamente il prodotto di questi due è uguale a quel modulo quadro ma questo altro non è che modulo di z quadro per modulo di v double quindi io che cosa ho verificato? ho verificato che il modulo di z per v double elevato al quadrato è uguale a modulo di z quadro quadro per il modulo di v double adesso estraete la radice quadrata e ottenete a sinistra e a destra che il modulo di z per v double è uguale a modulo z per modulo v double la radice quadrata non mi da nessun problema perché stiamo parlando i moduli sono sempre positivi quindi sto parlando di quella che si chiama la radice quadrata è aritmetica cioè non è che sto facendo la radice quadrata di 9 che può venire più o meno 3 quindi quella positiva la determinazione è positiva tolgo il quadrato di tutte le parti e minimo questa è uguale a questa ma questa l'ho dimostrato è vera quindi anche questa è vera è chiaro? bene come si fa a dire e a ricordarsi questa cosa? si dice che i moduli si moltiplicano allora il coniugato rispetto a somma e prodotto cioè il coniugato è la somma e la somma dei coniugati il coniugato è il prodotto e il prodotto è il coniugato il modulo del prodotto è il prodotto dei moduli ah vabbè allora pure il modulo della somma sarà la somma dei moduli quindi no il coniugato rispetto a somma e prodotto il modulo rispetto al prodotto cioè il modulo del prodotto è il prodotto dei moduli ma per quanto riguarda la somma c'è un fatto più interessante allora ve lo ricordate la diseguaglianza diciamo la regola del paralelogramma allora io cosa posso dire? allora io so che se questo è z se questo è w per fare z più w devo prendere questo allora questo è z questo è w questo è w più z o z più w allora che cosa so io in un triangolo? so che ogni lato per esempio prendete il triangolo di sotto questo triangolo ha per lato questo lato qua che è lungo quanto z e questo lato qua che è lungo quanto questo che è il modulo di w ma io so che in un triangolo ogni lato è minore o uguale alla larghezza minore o uguale della somma agli altri due l'uguaglianza c'è solo quando il triangolo è del genere quindi cosa posso dire? posso dire che il modulo della somma è il minore o uguale della somma dei moduli il modulo si indica con la stessa lo stesso simbolo del valore assoluto perché? chi è il modulo? radice di a quadro più b quadro per i numeri reali chi è? radice di a quadro perché b quadro fa zero che è il valore assoluto quindi il modulo dei numeri complessi sui numeri reali coincide con il valore assoluto quindi non c'è bisogno di un altro simbolo si può usare questo simbolo questa però che ho dato è una dimostrazione che si appoggia a un teorema di natura geometrica ora noi non lo vogliamo sfruttare soltanto questo teorema ma preferiamo dimostrare questa stessa cosa per via algebrica cioè questa qua insomma è vera perché è vero il fatto che in un triangolo ogni lato è più corto della somma degli altri due ma la vogliamo dimostrare allora come si fa? adesso io vado a fare il modulo della somma ma z e w sono sempre gli stessi primi quindi chi è questo al quadrato? chi è questo modulo della somma al quadrato? non è altro che a più c al quadrato anzi scriviamolo in forma complessa che abbiamo ok? questo è z più w per z più w coniugato il modulo quadro vi ricordate che z per z coniugato fa modulo z quadro allora il modulo quadro di z più w fa z più w per z più w coniugato questo è z più w per z coniugato più w coniugato adesso andiamo a sviluppare quindi qua mi viene z per z coniugato più w z coniugato più z w coniugato più w w coniugato uguale uguale chi è questo? zero per z coniugato quanto fa? già vi siete indicati modulo quadro di p in sé chi è quest'altro? modulo al quadrato di w w qui c'è w z coniugato più chi era quest'altro? l'abbiamo visto prima era w z coniugato coniugato modulo al quadrato di w z coniugato ok? o qualcuno vi dice ma scusa un attimo questo numero non deve essere reale perché un modulo quadro deve essere un numero reale positivo non negativo alla peggio fa zero se partiamo dal numero complesso zero come mai qua ci sono rimasti numeri complessi? non ci è rimasto nessun numero complesso perché? questo numero qua è coniugato di questo allora cosa succede se io prendo un numero e ci sommo il coniugato z più z coniugato e quanto fa? fa? 2a cioè 2 volte la parte reale di z quindi qua non mi viene altro che modulo di z quadro più modulo di w quadro più 2 volte questo quanto fa la parte reale di questo? 2 volte la parte reale di z di w z coniugato è inutile perché perché scrivo così? re significa parte reale perché se no devo fare il prodotto e ci devo scrivere il numero che viene è più facile scrivere così tuttavia qual è una cosa che io so per certo? che quando io prendo la parte reale di un numero è più corta è più corta il cateto è più corto dell'ipotenusa quindi so che la parte reale di un numero è più corta del suo modulo quindi cosa posso dire? allora innanzitutto quando sono andato a sostituire ho visto che qua è venuto un numero reale e poi so che questo numero reale è sicuramente minore o uguale di modulo di z da quadro più modulo w quadro più 2 volte il modulo di w per z coniugato quindi abbiamo appena detto che la parte reale di un numero è più 1 è minore o uguale ma se qua veniva negativo meglio ancora negativo è più piccolo di 1 ok ma io posso ancora dire che questo è minore o uguale di modulo di z da quadro più modulo di w quadro più 2 volte allora come si fa il modulo del prodotto? è il prodotto del modulo ma quindi il modulo di w è modulo w il modulo di z coniugato però scrivo modulo 0 quindi z coniugato e z facciamo lo stesso modulo quindi addirittura qua non è minore o uguale qua è uguale però qua c'è minore o uguale e chi è questa quantità che abbiamo scritto a destra? questa quantità che abbiamo scritto a destra non è altro che il modulo di w più modulo di z tutto a quadrato allora cosa abbiamo dimostrato? che il quadrato del modulo della somma è minore del quadrato della somma dei moduli togliete questo benetto quadrato siccome è tutta roba positiva e che cosa trovate? trovate che il modulo della somma è minore o uguale della somma dei moduli allo stesso modo potete dimostrare che è maggiore o uguale della differenza dei moduli cioè quelle proprietà che valevano per il valore assoluto valgono anche per i moduli provate potete provare sia una volta dimostrato questo a rifare lo stesso ragionamento che abbiamo fatto per i moduli assoluti sia potete qui minorare mettendoci meno due volte e quello la è la radice del quadrato di modulo z meno modulo w ma se ci metto la radice del quadrato di modulo z meno modulo w non è modulo z meno modulo w ma è il valore assoluto di modulo z meno modulo w quindi qua potremmo scrivere maggiore o uguale di modulo z quadro modulo w quadro meno due volte modulo w modulo z quindi questo qua è modulo z meno modulo w quadro se adesso estraete la radice trovate quest'altro ok se l'ultima non l'avete capita allora fino a qua dovete aver capito se no state ugualiati seriamente se l'ultima non l'avete capita di primo a quinto ci può pure stare te la rivedi con calma poi alla fine se non la capisci dopo dieci volte che l'hai guardata vieni pure a chiedere al professore però dopo dieci o dopo venti o e qua lo dico perchè se te lo dici il professore vuol dire che lo sa il professore e non che lo sa di ah si 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 quando l'ha detto il professore sembra tutto facile poi vai a fare tutto è chiaro? quindi bisogna per perci dentro anderci tempo allora andiamo ad un attimo a ricapitolare perché questa cosa ci piace assai perché ci dice parecchie proprietà ci dice che il coniugio rispetto a somma ai prodotti il coniugio rispetto a somma a somma di coniugati coniugato e prodotti e prodotti coniugati il modulo quasi nel senso che il modulo prodotti prodotti coniugati invece per la somma vale questa qua, come si chiama questa? disuguaglianza? triangolare, perché? perché viene appunto dal fatto che in un triangolo ogni lato è minore della somma di lunghezza la lunghezza, come lunghezza chiaro? bene ed ovviamente la lunghezza di ogni lato è maggiore del lavoro di f ogni lato è minore uguale, la lunghezza di un lato è minore uguale alla somma della lunghezza di altri maggiore della loro differenza ok bene, quindi siamo arrivati a queste proprietà ora a che ci servono queste proprietà? beh, ci servono ci servono, perché? adesso la cosa uno dice quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare adesso ci serve un po' di trigonometria allora facciamo prima nel caso di un esempio e poi nel caso generale andiamo a vedere andiamo a vedere andiamo a vedere come facciamo un paio di esempi non lo so non lo so non lo so ok andiamo prima a rappresentare questo numero qua qua c'è i qua c'è i qui allora prima cosa voglio sapere che cos'è questo archetto che ho disegnato? è l'archetto della circonferenza unitaria cioè questa circonferenza è un quarto della circonferenza di centro d'origine raggio? perché uno perché uno dista uno da zero e i punti dista uno da zero sia sull'asse delle ascissi sull'asse delle ordinate quei due numeri dista uno dall'origine allora voglio sapere chi è questo numero qua? no non è 3-2i 3-2i è coniugato che sta di su è coniugato di un numero che sta nel primo quadrato che sta nel quarto quadrato io dico che questo numero è 3-2i fratto radice di 13 perché? beh lo vedete che deve avere la stessa direzione cioè questo numero sta sulla come vettore è allineato con questo vettore allora che vuol dire? quando due numeri complessi sono allineati devono essere proporzionali tramite un numero reale cioè c'è un numero reale che è moltiplicato per questo mi deve dare questo o che è moltiplicato per questo mi deve dare questo ora perché questo numero reale deve essere esattamente per passare da qua a qua 1 su radice di 13? perché questo numero stando sulla circonferenza unitaria dovrà avere il modulo 1 o no? se un numero quando è che un numero sta sulla circonferenza unitaria? se solo si il suo modulo è 1 allora questo lo chiamiamo w quando andiamo a fare il modulo di w quanto fa? fa 9 4 4 diviso 13 che fa proprio 1 anzi radice di radice di 1 poi fa 1 perché che devo fare? 3 su radice di 13 al quadrato fa 9 radicesimi 2 su radice di 13 al quadrato fa 4 radicesimi la somma fa 1 radice quadrativa fa 1 quindi il modulo di w io fa 1 quindi per passare allora z a più i b c'è il suo modulo z che è la radice di a più i b a quadro più i b z sul modulo z cioè a più i b fratto la radice di a quadro più b quadro a modulo di z su modulo z a fa la radice di a quadro più b quadro fratto a quadro più b quadro e fa 1 ok? o se preferite il modulo del prodotto è il prodotto di modulo il modulo di sopra fa modulo zero il modulo è modulo z fare il modulo di un numero reale è il numero reale stesso arrivato dal segno ma quello era già positivo quindi viene modulo zero quindi modulo z sopra modulo z sotto fa il rapporto non scrivo modulo in modulo z perchè può sembrare un altro simbolo che si chiama modulo ok? cioè il modulo fatto due volte è come fatto una lotta su bene bene naturalmente tutto ciò vale a patto che z non sia il vettore nullo cioè se z era il numero zero sta cosa non funzionava perchè zero con chilo allineo con questo, con questo, con questo non c'ha senza infatti nel caso che z fosse zero non posso dividere per modulo z però qualunque numero complesso anche se z stava di qua ed era corto, corto in quel caso il modulo era minore di 1 quindi dividendolo per il suo modulo se questo è w questo è sempre w su modulo z insomma quando divido un numero complesso per il suo modulo il modulo viene 1 il numero complesso c'è modulo unitario fino a qua non c'è nulla di complicato è chiaro? allora due numeri complessi che nel piano corrispondono a vettori allineati sono l'1 il multiplo dell'a per esempio vediamo un po' se io prendo un multiplo di 1 un multiplo di 1 allora qua questo è diciamo questo è 1 più i su radical 2 perché è quello di modulo unitario allora qua se andiamo a fare la coordinata la prima coordinata viene a la seconda coordinata che ci devo mettere? allora questo numero complesso è 1 più i su radical 2 diciamo prolungo arrivo a parte reale a la parte immaginale quanto sarà? più i volte a cioè lo vedete qua la parte reale 1 su radical 2 uguale a la parte immaginale 1 su radical 2 quando moltiplico per un numero reale che succede? che la parte reale e la parte immaginale rimarranno uguali allora per capirci se moltiplico questo per 2 lo raddotti come lunghezza poi quanto verrà? invece di 3 più 2i? 6 più 4i cioè come vedete la parte coefficiente da parte reale di 3 e mezzi di questa è vero anche qua 3 di 3 e mezzi di 2 6 di 3 e mezzi di 2 è vero anche qua questo è 2 su radical 13 questo è 3 su radical 13 quindi quando due numeri complessi corrispondono a vettori allineati tra la coefficiente da parte reale e la coefficiente da parte immaginale il rapporto si mangia sempre qua chiaro? fino a qui? bene tuttavia adesso farò una figura ben più grande questa cosa con l'aiuto di un po' di geometria allora la prima cosa che abbiamo detto sostanzialmente significa che z è uguale a modulo z per z su modulo cioè tutto quel discorso che abbiamo fatto geometricamente significa che z è il prodotto del suo modulo per un numero di modulo unitario allora prendiamo perché il modulo del secondo fattore è unitario che significa che sta sulla circonferenza di Italia adesso la circonferenza di Italia l'abbiamo fatta ben più grande qua c'è uno e qua c'è uno allora diciamo che z era questo quindi questo qua è z su modulo z ma cosa sappiamo noi? se questo angolo lo chiamo alfa per definizione chi è questo? quanto è lungo? allora ci metto le lettere questo lo chiamo qui questo lo chiamo alfa ph chi è? è il seno di alfa? allora chi non ha mai visto trigonometria e non l'ha capita manco nei precursi lo prende per definizione questo per definizione è seno alfa si prende positivo se p sta di sopra il quadro e negativo se p sta di sopra quindi proprio come è esattamente il coefficiente della parte immaginale di questo e chi è OH? sempre per definizione è quello che si chiama coseno dell'angolo alfa quindi questo è praticamente coseno di alfa più i seno di alfa per definizione per definizione dove alfa è l'angolo formato dall'asse delle ascisse e dal vettore f allora chiariamo bene come si misurano gli angoli questo vale anche per chi ha fatto lo scientifico perché non tutti gli angoli in matematica si misurano irradianti cioè significa che qua siamo a zero qua non siamo a 90 gradi perché non sono chiari sono varianti qua siamo a pi greco mezzo è una unità che non ha una misura una unità adimensionale che non ha una dimensione quindi quindi 90 gradi corrisponde a pi greco mezzo 180 gradi corrisponde a pi greco è tutto proporzionale cioè ovviamente pi greco quarti quanto sarà? 45 gradi pi greco sesti quanto sarà? 30 gradi il perpia di questo motivo si capirà più in là però è un motivo molto pesante per cui questa cosa non ammette discussioni in matematica gli angoli sui irradianti e basta l'angolo giro 360 gradi quanto sarà? 2 gradi c'è chi già lo sa e c'è chi lo imparerà va bene? però a me interessa questa è stata una parentesi incidentale comunque sia z come si può scrivere? si può scrivere modulo di z per coseno di alfa più i seno di alfa dove alfa è il ripeto l'angolo misurato dai radianti nel senso lati orari formato dall'asse della scissi e dal però è un po' stona perché stona? perché noi abbiamo modulo z che è una lettera latina e poi qua abbiamo alfa che è una lettera greca allora per tradizione si suole indicare il modulo di z con una lettera greca del tipo ro oppure sigma ro sigma tau allora ponendo questa definizione diciamo facendo questa posizione allora la mia scrittura diventa z uguale a rho per coseno di alfa più i seno di alfa ok? questa si chiama forma trigonometrica di un numero complesso cioè un numero complesso si può scrivere come a più i b chi è a? ovviamente se z è uguale ad a più i b risulterà che a è uguale a rho coseno di alfa e b è uguale a rho seno di alfa quindi se io conosco alfa e rho posso ricavare a e b ovviamente vale anche il contrario però ricavare rho è facile è la radice di a quadro più b quadro infatti è il modulo ricavare alfa è più difficile perché l'arco tangente io uso la notazione inglese quindi arco tangente invece di scrivere arco tg scrivo a tang arco tangente t b su a ma questo è vero solo nel primo quadrante cioè se a è maggiore di 0 t e b è maggiore di 0 se invece siamo negli altri quadranti la formula cambia non ci voglio entrare qua lo faremo le formule non vanno mitizzate le formule vanno ricavate tu devi conoscere il principio che ti fa ricavare la formula perché conoscendo il principio che ti fa ricavare la formula ti ricavi la formula in tutti i casi possibili quindi se volete la formula sul secondo, terzo, quarto quadrante un secondo ve la scrivo non me la sto a ricordare ma la ricavo al momento cioè non c'è nessun motivo per ricordarsela e fare solo confusione in testa allora questa formula qua vale nel primo quadrante le altre formule per adesso non me le dico non vi voglio fare confusione quello che voglio sottolineare e quando lo scrivo così numero complesso si dice forma algebrica quando lo scrivo in quest'altro modo si chiama forma triconometrica ok? queste formule servivano a ricavare la formula triconometrica da quella algebrica e b se c'ho rho e a posso ricavare a e b posso passare la forma algebrica è banale no? questo va e questo per questo l'indicerezza è meno immediato ma appunto lo dimostriamo valgono queste formule questa vale solo nel piano quadrante quella vale semi però poi lo vediamo quello che mi interessa è che un numero si possa scrivere sia in forma algebrica che in forma l'indicerezza adesso vediamo se è finita l'olio sapo di che si possiamo aggiungere un po' grazie 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 grazie